ok ok ci dovremmo essere metto giusto le cuffie e comincio con le condivisioni di rito come di consueto perché si sa una diretta se non è condivisa non sarà in cula nessuno nessuno buonasera a tutti intanto saluto prontissimi rocco e sisco grande ragazzi mitico 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 orario aperitivo sapete che questa diretta la di san santa quattro e su un minuto può capitare o orario aperitivo lunedì o sera di lunedì o martedì ora d'aperitivo martedì sera o anche la domenica esatto esatto dipende siamo un po' variabili ha vinto mario ragazzi per un punto come commenta giustamente siderio un punto un punto un punto 95 94 e quel punto è stato decisivo tanto condivisione anche qua ci dovremmo essere condividete condividete ragazzuoli noi intanto vi ricordiamo che stanno andando in onda tanti tanti match di smash tra di noi adesso perché vogliamo fare un torneino in questo gruppo probabilmente sarà i primi di gennaio comunque durante l'arco di una settimana avrete tutte le informazioni si faremo altre partitine come quelle di ieri sera tanto per per scaldarci assolutamente si bene bene direi che ci siamo possiamo cominciare allora io ed enrico quest'oggi vi mostreremo super mario che cazzo per il ness ma lo mostreremo nella versione per nintendo switch online e che quindi include la possibilità di giocare in multiplayer esatto giocheremo in due allora fammi vedere un po' come si fa ciao giovanni allora viaggio qui la prima volta che vado con che utilizzo un ness quindi perdonatemi se sbaglio un po' allora devi dare sul menù quello tutto a sinistra e fare gioco online menù tutto a sinistra esci dal gioco allora reimposto i controller in modo che a me non mi faccia utilizzare i gioi con come controller principale sì sono poi mi sfasa ok caro controllo il gamecube va in pausa per pochi minuti poi ritorniamo a giocare a smash si preoccupa se no eh si infatti infatti menù di pausa caro del set e torna alla selezione dei giochi almeno a sinistra due giocatori gioca online cazzo eh esatto francesco dice che se creiamo una chat dedicata su discord per solo per super smash cosa dici? ma assolutamente si ragazzi anche perchè io ieri non avevo il canale discord di gamescore non avevo il link oggi ce l'ho quindi giocheremo un sacco si dai fatta fatta francesco ok dovrei aver avviato una stanza ok io ti cerco aspetta senza codice ok ok ci sono ti vedo ma tra l'altro cioè se io creo la stanza prima della selezione del gioco possibilità della connessione va bene che bello perfetto ci siamo tu però non stai giocando qua giusto? non ci sei no 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 se tu stai giocando adesso allora che faccio Luigi 60 e start menù di pausa reset 2 player games credo si deve premere il meno per eccolo e poi più ma scusatemi scusatemi non mi ricordo più il pulsante select adesso ho messo due giocatori giusto? si 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 adesso stai giocando tu e poi? e poi quando muori gioco io ahhh così ci alterniamo che figata eh si eh eh si no no andare di la non devi andare di la cazzo mi lo dico più ma io Enrico lo finirò tutto con una vita davvero? ma va devi fare mi sa che sei già capito che farà un po' schifo anche in qua oh vediamo un attimo vediamo sotto di la la stellina no la salti sai che non mi ricordo niente io posso appare una manina che figo posso indicarti che figata è bellissimo poi non prendi il cazzo di brutto non ho nessuna utilità per il gioco sta roba qui no ecco vinto sei morto sei morto ahhh e adesso c'è Mario bianco verde vediamo Enrico alle prese con lo stesso identico livello che è il primo a 33 anni di distanza ce la fa mamma mia mamma mia ah ma guardiamolo Enrico ce l'ha studiato è preparatissimo sai quanto ci ha giocato? ma quanto? madonna 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 sid che figure di merda due anni di gamescore mandato in malora questi sono i commenti di sisco la mia partita grazie sisco no no mi devo trovare un po' con il pulsante sai che avrei dovuto prendere il controller NES si è vero anche in quel momento non mi andava di spendere 50 euro per altri controller ho appena prenotato quello per gamecube però è vero che erano un'offertona ahhh mi hanno saltato ehi signor Luigi Enrico ce l'ha fatta bene e io allora farò la telecronica eh fai la telecronica Enrico si incunea nel tunnel si ammazza un goomba prende prontamente il fungo non apre neanche gli altri punti di domanda sa già che cosa contengono esatto tutti i soldini questo livello io penso che si potesse schippare in pieno se uno riesce ad andare sul soffitto si vero non mi ricordo però a che altezza si poteva fare tutto questo Enrico ecca auto con un mare gigante oh mamma mia tecnico e si è eccolo 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 stiamo dando spettacolo speedrun ragazzi direttamente dal massachusetts Enrico bond si mangia a questo livello andiamo su quattro ma guarda ma che roba carina è questa i platform di oggi non hanno delle trovate così fighe che puoi scegliere quale riuscite a fare dai oh qua ben mo liquido pochissimi bit minima palette di colori ma già ho visto più nemici in questi due livelli che che in interi altri platform dai diciamolo uuuu cazzarola su morto aglia troppe emozioni tocca a seed ah da metà livello ok ah ma io da dove sono morto vivo esatto ti fanno ripartire da dove eri prima ah figo ah si 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 praticamente mette in pausa uno e poi continua l'altro esatto 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 ok nooo si no non ci credo sai cosa che pensavo si potesse fare pensavo rimbalzasse sulla testa del gumba eh ma non è possibile prende il fungo gigante Enrico ma prima raccoglie le monetine perché sa che dopo non sarebbe più possibile passare lì sotto veri mo e va e va si incunea dritto verso la vittoria 5 minuti è spettacolo è bravo è bravo Enrico solleva le sorti della live cazzo per quelle volte che gioco dai mamma mia mamma mia come commenta Cisco fu così che Sid non giocò più ma direi bene così tra l'altro abbiamo ribadito che forse sarebbe meglio se Enrico giocasse e io commentassi durante le nostre live o che bello è l'effetto cava tutto azzurro per dirti che è buio e quindi anche la tartaruga cambia il colore silenzio silenzio mentre Enrico via via se ne va se ne va se ne va se ne va va nello 8 via 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 ha rumore prozone e va nello 8 Salta livello dopo livello mi son dimenticato che le don trenbano il fungo il fiore mamma mia ragazzi che spettacolo Pensate se dovevate invece guardare soltanto me giocare nel primo livello bloccato Frustrantissimo Eccolo qua, perfetto, trovate Monetina, un'altra vita per Luigi Enrico Procede, procede, dai, dai, dai Ci giocassi tu all'epoca No, no Per niente Queste tartarughine con le ali dovrebbero essere i famosi Koopa, Paratroopa Stellina per Enrico A parte la prima musica della Superstella No, no, no Finalmente un'occasione per Seed Ce la farà finire il primo livello Soltanto una vita è rimasta Fai che ti rompo poi i maroni Grazie Enrico Mario Game Over Così Vaffanculo Dai, tre viste Vediamo se riesci a proseguire Magari le distrazioni Le distrazioni contano Però dai, diciamocelo Altri due vite per Enrico che riuscirà forse a finire il titolo Dai, non ti scasso le balle con la manina fastidiosa Se sto in silenzio procedi pure nei commenti No, ma che figata Sono veramente rapito Sì, andiamo a vedere intanto cosa commentano le persone Mi danno del poteto Ah, Giovanni ha fatto una speedrun Ribislacone Spertone Altri insulti di Sisko su Seed Rocco ti dice che per futuro non c'è Wolf Premi l'analogico Seed È che non c'è Wolf, commenta Rocco Bravo Rocco Il problema è che manca Wolf in sto gioco Se no Farei faville Con il tasto della corsa è possibile Saltare questi Piccoli baratri Vai punti Enrico No, non ha saltato Quando una volta non c'erano i rage platform Perché tutti i platform ti facevano sfasare Cioè, allora che c'era uno buono Quando mori devi rifare tutto da capo Quindi arrivavi a imparare veramente a memoria i livelli Tanto io ringrazio le quasi 200 persone Che anche questa settimana hanno votato Ricordo che l'altro candidato era Zelda per NES Che ha perso per un solo voto Cazzo ragazzi, un solo voto Un solo voto E quindi Io Enrico abbiamo deciso che verrà comunque mostrato Ma settimana prossima Mi sembra Sembra corretto Mi sembra che per un voto non si possa dire che abbia perso E quindi verrà mostrato anche lui la settimana successiva Ehm, ciao Buona notte Mi perdo poco E' andata, è andata, è andata E' andata Nessuna vittoria Però Enrico, io ti dirò Mi sta piacendo un macello Questo NES online, no? Sì, è vero, è vero Giocare in due è veramente bello Quindi vorrei vedere se ci sono altri giochi Che possiamo veramente fare in multiplayer Ehm, c'è E' bravo, bravo Proprio questo vuole Secondo me lui scambia G1 e G2 dal menu di posa No, non scambio nessuno Ci mancherebbe To play the game A Che suppongo sia Ah, guarda Puoi applaudire? Esatto Siano 11 Ok, dovremmo esserci, mi sa Sì Intanto la musica Io sono il verde Ok No, sono il verde Oh no Ah sì, se sei tu il verde Io sono il viola e il rosso Ok Sei già morto No, anch'io Sì, anche tu Che cazzo Ok Questa è l'originale Super Mario Bros La versione arcade Esatto Eh, da muovere possiamo dire che è scomodissimo Sì Non ho visto Mario saltare così male in vita sua Questo è stato proprio Il livello finisce quando ammazziamo sostanzialmente tutti i mostri Esatto, esatto Questo è stato proprio Salto è veramente pessimo Sì, 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 si vede Cioè non hai nessun controllo aereo Una volta che decidi da che parte saltare Salto è fatto Eh, nintendo Non te lo restiamo recensendo Guarda che non posso andare di là Devo fare per forza i due salti Uno di qua e uno di qua Ok C'è l'effetto Pac-Man Quindi la terra è piatta Esatto Come facciamo andarla sopra? Non mi ricordo più No, quella è incazzatissima È super incazzata Ce la farò a bloccarla? Sì Vado io Grande Passiamo al livello 3 Test your skills Oh, bastatto Effetto Pac-Man dai No, troppo Pac-Man Ed è rimasta una all'inizio Che mi sono lasciato io indietro Mare ha fatto 800 punti 800 Luigi No bonus Bravo No bonus Ecco, questo giochetto qua Si poteva trovare L'altro è quello di bellissimo Scusa Due colpi ci vogliono i granchi Enrico Sì Ok, un altro granchio che se ne va Si incazza di brutto Ma Non serve a nulla Occhio che ne serve a nulla Incazzatissimo Uh Uh La pallina verde mi frega di brutto Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Dove arriva? Dove arriva qua? Cazzarola Da te Luigi game over Mario game over? Mario game over Mario game over Siamo fortissimi Enrico Vedi che tu puoi vincere Ma se sei in squadra con me No Vediamo se c'è qualcos'altro di Mario Io se non ricordo male Forse anche questo lo possiamo giocare Però Super Mario Bros 3 Magari lo lasciamo per Da mostrare più avanti Sì, sì, sì Esatto Multiplayer a Dottor Mario Lo possiamo fare Sì Vediamo la grafica Come viene sfruttata molto di più Virus level No, 0, 0 Speed, medium Music time, fever Chill Siamo in due Ok Sì, siamo in due Siamo in due Ok, non mi ricordo le regole di Dottor Mario Tipo Tetris Però con i colori Con i colori Esatto E dobbiamo seccare virus Ok Esatto, sono già morto Io ho proprio È andato malissimo Che non sono gormiti Ma sono virus No, però Non sto ammazzando nessuno Eh, neanche io Quante ne devo mettere in fila? Quattro Quattro Che la madonna Sono tantissimi Quattro Tanto scendono belli veloci, eh Eh sì, infatti Devi stare attento È un virus Io l'ho tolto Guarda Supercombo Tem Ah, ok Niente Mi piovono Le proiettili da tem Non so Andiamo con un altro Spingo Tu hai vinto Ah, tu hai vinto Michele, hai già pulito Bastardo È troppo forte No, devo ammettere che Questo non lo conosco Un gran che E quindi anche in questo gioco Seed sta perdendo Cazzarola Non se ne viene più fuori Questo mi ricordo che ci giocavo Sul Game Boy Ah, sì Sul Game Boy Avevi lo schermo Tutto totalmente verde E sì Ci ho giocato un pochino Non sono la mia passione Questi giochini qua Tipo Tetris No, l'avevamo fatto carino C'era dell'epoca Che forse era quello Al top Forse era il migliore Quello della grilla Game Gear Ah C'era uno per il Game Gear Che era veramente divertente Quello forse era L'unico che poteva Giocarsela con Tetris Enrico, me ne manca uno Eh, anche me ne manca me No Shit, che errore hai fatto Cioè, avevo vinto ma Ma non l'ho vinto Un po' come al solito, no? Io sto Sto cavolo di blu Che mi rompe le maroni Ah, dannazione No, non lì Cristo santo Niente Non mi viene quello Non mi viene quello Non mi viene il T-pad Sì, ti conviene Con l'analogico Sfaso troppo La In caduta libera Come niente No Che fragello Ah, dannazione Mi ha messo uno rosso Sì Comentatela Bravo, bravissima Sì Guarda proprio l'esultanza Dopo una vittoria In chat c'è qualcuno Che dice Che gli sanno negli occhi Da quanto Felice è Perché stiamo giocando bene Ma noi mostriamo i giochi Perché ci piacciono Non perché siamo forti Cioè Io lo dico sempre Non c'è Vuole nessuna qualità Per diventare Proprio così Creatore di contenuti video Su internet No No Bastardo Ci l'avevo quasi fatto Primo che arriva a traiettore Guarda le quelle coroncine Come brillano Al centro dello schermo Mi devo impegnare Uh Questa non ci voleva Questa l'hai sbagliata Tanto Sì Dannazione Dai Dammeli questi blu Dammeli Enrico Ci siamo quasi Cazzarola E si va alla bella La bella La bella La bella Non fare errori Non fare errori Ok Uno è andato Cristo Ma stai andando Sei una scheggia A sto giro Yeah E' andato Non ho visto La rifacciamo Anche se Ragazzi La rifacciamo Vai Adesso 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 scanno Anche io Non ho capito Sto diventando cattivissimo Enrico Sto imparando Segui la notizia Che c'era Adesso 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 Non so se era una bufala Che voleva togliere il test di medicina E lasciare il dottor Mario Per pochissimo Posso battere Enrico Posso farcela No Ciao Cosa cazzo hai fatto Tre secondi Mannaggia Dai Che palle quando cadono lentissimamente Dai No Ho sbagliato No Per poco Stava cadendo Tu da uno E' lotta Notta apertissima Cazzo no Il malus No Proprio lì mi si è andato Piode Enrico Mi è danneggiato tantissimo E va a vincere di nuovo Mi ha devastato ragazzi Tanto ragazzi Ringrazio per averci seguito Quest'oggi avremmo dovuto mostrarvi Soltanto Super Mario Bros Ma dopo che mi ha fatto un culo così Ho provato a sfidarlo In cento altri giochi E non ce l'ho fatta Nessuno Dai la prossima Alla prossima Tanto è arrivato il dodgeball Ma dodgeball lo possiamo giocare anche questo Scusa mia Dobbiamo Bello sto Oh c'è il versus Sì Infatti È veramente bello sto Nintendonese online Io prendo il Giappone Vuoi giocare a questo? Ma sì Non so Così è capitato Almeno lo esploro Giuro che la prima volta Che faccio andare a sta cosa Io prendo il Kenya Change Dobbiamo cambiare posizioni No dai Facciamo che va bene così No no Vai vai Non facciamo anche le Ah no aspetta No no Stiamo cambiando le posizioni Era esattamente quello Che non dovevamo fare No Aspetta Aspetta Non pigiare Niente mai Vabbè niente Metto le posizioni a caso Ma sì Senti Questo gioco non è giocabile Se volete cambiare le posizioni Ecco che rimanete fregati Qualche modo è partito E non sono anche i tasti Neanch'io Colpito Sì Ho capito E' più un po' la guerra Mi sa che dal colore Tu sei il Kenya Giusto? Sì Mamma mia ragazzuoli Cosa vi stiamo mostrando Mamma Oh mi sta facendo Il sederino In realtà sono un campione Di questo gioco Quindi Per quello che l'ho proposto Palla del Rico Ok Adesso tocca a me a scappare Posso Ancovacciarmi Ok Sì E puoi ancovacciarti E prenderla Azzarola Ma la puoi prendere Anche al volo Cioè tipo Eh in teoria Bello Schiva Adona Però io muovo soltanto Uno dei 38 personaggi In campo Sì Eh niente Passaggio E con le pisce Tanto i personaggi Finiscono nell'erba alta Tratti Scompaiono Questi sprite Che vanno e vengono Non tutto il retro gaming E' splendido Oh cosa ci fa Lì uno dei miei Questa è fallo Grande 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 Enrico Tu te le sta schivando Uuuuh Uuuuh Eh io devo uccidere i tuoi personaggi In alto c'ha la vita Ok Sì vabbè Ho capito Andiamo avanti Sì Una passita da 7-8 ore Sì Esatto L'emozione a non finire Anche graficamente Insomma Per una serie di scelte E' uno dei giochi Più belli dell'epoca Secondo me Però Vabbè Dovevamo vedere solo Mario Ma Sti giochi in esse Ci rapiscono Ci rapiscono Cuore e anima Quindi Sì Scusateci Vado a murare Ma vengo colpito Vabbè sì Che cosa proponiamo Per la prossima volta? Super dodgeball Questo gioco qua Per 8 ore consecutive Assolutamente sì Non mi sto emozionando per niente Non so che cazzo devo fare Ogni tanto ti colpisco Per sbaglio Ogni tanto la schivo Due colpi mi hai fatte In un giro Meno male che l'abbiamo cambiato La formazione Mi vengo a dire Sì fate Sbam Ecco la schivata Faticissima Bella la schivata In cui Si accovacciano Con un pugno a terra Così Tra l'altro hanno preso A giocare Degli energumeni Che non sono i più adatti Per schivare i palloni Ragazzoli Avete Proposte Nel fare Quei tre Che ci stanno guardando In live Settimana prossima Abbiamo Zelda Così E magari Mostriamo altri giochi Della NES Così poi dopo Basta NES Per un po' Insomma Dai faremo un sondaggio A noi Ah sì Facciamo un sondaggio Sempre Oh Te l'ho preso al volo Anch'io Stiamo imparando Di brutto Siamo super forti Adesso No Manca il frame Cazzo Metroid Metroid Settimana prossima Oh sì Anche un metroid Voi facciamo Zelda Metroid Del NES È quasi morto Un keniano Eh sì Eh sì Mi hai sentito È morto È morto Sì Mi senti Sì Facciamo Metroid Per NES Contro Zelda Per NES E Zelda Ci sto Ci sto Totale Metroid Metroid Andata Ragazzi Grazie A Giovanni No questo gioco qua Non sta più finendo Enrico ti prego Spegniamo Va bene basta Spegnito Dai spegnito Troppe emozioni Troppe emozioni Mettiamola un po' così Vai Perché vi proponiamo Dei capolavori E non queste cagate qua Esatto Esatto Ciao ragazzi Grazie per averci seguito In questo delirio NES Finalmente anche Enrico Con un controller in mano Che dimostra Di conoscere i titoli E di saperli giocare Sì Invece qua Per sbaglio Ci vediamo settimana prossima Alla prossima Ciao Razzuoli Ciao